Salve a tutti, sono Gabri Costa. Guardate tutti insieme questa scena, visto che sto parlando del video giocheo The Kangaroo. Incontriamo ancora una volta Shimmy. Shimmy l'avevamo già incontrato nella giungla famerica, ma ora è qui, nelle montagne ghiacciate, e noi siamo in questo negozio. Siete visto? Si fa il selfie con la macchina fotografica. Bene, spero che questa scena vi sia piaciuta. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e mettete un mi piace. Arrivederci da Gabri Costa. Ciao a tutti.